A Città Nova la campagna elettorale sembra non finire mai. Si è votato esattamente un anno fa, ma ancora la propaganda, i comizi e gli appelli alla cittadinanza ancora non sono finiti. Qualche settimana fa il sindaco Cosentino, in un'ora e mezza di comizio, ha tentato di spiegare le difficoltà economiche e finanziarie dell'ente nel momento in cui c'è entrato casse comunali quasi vuote, conti in rosso, con l'ombra del dissesto che incombeva sull'ente. E proprio su questo l'amministratore di centro-sinistra è stato chiaro, con responsabilità non dichiareremo il dissesto economico e finanziario, aveva detto, dell'ente assumendoci il compito di costruire un futuro diverso e migliore per Città Nova. Parole chiare e definite, ma alla fine dichiarare il dissesto non avrebbe giovato a nessuno, né a questa amministrazione né alla precedente. Ma l'ex sindaco Alessandro Cannatà non ci sta e dopo l'annuncio di un controcomizio è passato a definire il giorno. Il 2 giugno, festa della Repubblica, che a Città Nova sarà contrassegnata da una querel politica che stenta a scemare ad un anno dalle elezioni. Stessa piazza per l'ex primo cittadino, quella di San Rocco, per contarsi e sfidare sui numeri l'attuale sindaco, un cittadino in più in quella piazza, perché il cardiologo ed ex amministratore di Città Nova sarà una vittoria. E in quella donata di fedelissime e concittadini spiegherà la sua verità sui conti, le casse vuote evidenziate da Cosentino e una situazione economico-finanziaria quasi al collasso, come è stato riferito dal sindaco. Chissà se al controcomizio di Cannatà si passerà poi ad un confronto in piazza tra i due, tanto ancora sembra di essere in una infinita campagna elettorale che non trova fine.